Tino avrai capito dove siamo no? Ma che dici tu? Mi sono meravigliato come mai non mi abbia tu detto ma io lo so sto con te ormai. Mi stanco ormai a parlare con te. Bravo allora ospedale Giovanni Oggi è stata una giornata veramente veramente negativa. Giovanni ha chiamato un paio di volte in lacrime, disperato perché non ce la fa più, perché adesso è costretto a rimanere a letto non può muoversi, c'è un'infezione alla gamba per cui deve stare molto attento. È una situazione molto molto particolare, è molto provato e quindi oggi è stato difficile contenerlo, cercare di stargli vicino, si è fatta viva anche la mamma, insomma è stata una giornata veramente veramente molto molto intensa. Questa è la spesa che Giovanni ci ha chiesto come avevamo già detto una parte. Questa è per una persona, lo ribadiamo giusto per sottolinearlo, una persona un fantasma di quinto potere, le ribattezziamo così, quelle persone che per tanti motivi non possono in assoluto essere visti, però che aiutiamo. Quindi quando vi diciamo quinto potere, quinto potere è quello. È una persona che è stata messa oggi in una struttura di accoglienza e quindi non ha assolutamente niente. Siccome in queste strutture bisogna provvedere personalmente a se stessi, ci ha chiesto, come vedete sono tutti i beni di prima necessità, la carne, la pasta, le cipolle, l'aglio per cucinare, guardate l'olio, i pelati, insomma beni effettivamente di prima necessità. Invece questa è quella parte della spesa che Giovanni ci ha chiesto, non abbiamo preso molti dei dolciumi che ci ha segnalato, un paio di pacchi di patatini, biscotti per la colazione, ma poi ci sono gli asciugamani, ci sono i cracker, quaderni per scrivere, i puzzle, quelli per, sai Tino, quei giochi che in mezzo alle lettere devi trovare le parole, si chiamano puzzle, l'ho scoperto. Oggi è New Round, acqua, tutti insomma qualcosa, dal maestro, qualcosa di quello che ci ha chiesto e adesso glielo portiamo, anzi anche un po' tardi perché poi alle 7 bisogna uscire, però ci danno sempre un pochettino di bonus, di bonus. Quella che non hai tu, con di tolleranza. Veramente adesso te la allungo la gamba. Ancora? Basta? Non lo faccio, non lo faccio. Andiamo a capire quali sono le sue condizioni, voi mi raccomando continuate a pregare se ci credete, continuate a mettere i vostri pensieri in contatto con quelli di Giovanni perché ha veramente tanto bisogno, anzi qui sotto scrivete una parola di conforto, un messaggio, un augurio a Giovanni perché poi la prossima volta glieli faremo leggere tutti, chissà riesce a capire che effettivamente non è da solo, lui non vede il telefono da un bel po' di tempo, non si connette da un bel po' di tempo, chissà che non riesca veramente a comprendere che tanta gente lo sta abbracciando, lo sta aiutando. E qui, Tino, quando abbiamo speso? Qua 100 euro. Tu, sì, 100 euro mi sa. Vabbè, tutto, abbiamo comprato anche due cose a Leo, non so. Non è facile. Vabbè, Tino, lo devo fare, lo devo fare. No, tu non puoi entrare. Tu adesso vai a portare l'altra spesa e mi riveni a prendere. Sì, padrone. Bravo, bravo. Sì, padrone. Vedo che... possiamo fare un saluto. Eh, vedi che te ne vai, fatele sotto sotto per piacere. Possiamo fare un saluto. Sembra che stai tornando dalla guerra, eh. È la stanchezza della giornata, no, no. Vedi? Eh, bisogna lavare la biancheria, il pigiamo, no? E quindi... Chi li lava? Li lavi tu? Li lavi tu. Io li lavo io. Li porterò a casa e li laverò io, e li laverò io. Un bel bucato. Tutto bello profumato e li riportiamo domani. Per fortuna si è tranquillizzato un po' Giovanni, eh, siamo riusciti a portargli un po' di sollievo. Anche, devo dire, il suo vicino di letto, che chiama lo zio, è davvero una persona eccezionale, molto sensibile. Quello nuovo che è arrivato, no? No, è sempre quello vecchio, sempre quello. Non è ancora andato via. Andrà via nei prossimi due o tre giorni e quindi vediamo poi quanto questo influirà anche sullo stato di Giovanni. Sull'umore. Perché condivide un po' la notte insonne, gli va a prendere il caffè, ha la macchinetta la notte perché Giovanni ovviamente non si può alzare. Insomma, è una bella convivenza nella Camera. Speriamo che poi chi prenderà il suo posto possa avere la stessa sensibilità. Insomma, però la cosa che ci fa piacere è che Giovanni è un po' la mascotte, nel senso che tutti quanti si fanno in quattro, per tutti. Però, sai, c'è quel sorriso, quella cosa in più per la storia di Giovanni, perciò che Giovanni è un po' rappresentato per tutti. domani, Tino, gli porteranno la pizza. Eh sì, eh sì. A che ora? Non lo so, non lo so. Eh no, per sapere così. Eppure qua, Tino, ti viene a mangiare la pizza in reparto all'ospedale pur di mangiare. Cioè, non l'hai mangiato, tu non hai mangiato la pizza. Ho capito, in caserma, non è all'ospedale, la pizza che devono destinare a un altro. Eh dai. No, la pittavo pure io. A togliere il pane in bocca agli ammalati. No, non è che si tucca, non ho capito. Ah, ho capito. Ne prendiamo due, noi abbiamo agli insieme a Giovanni. Ah, così va. Hai le gambine corte, non insistere, non insistere. Vabbè, comunque, oggi è stata, lo ribadiamo, una brutta giornata, momenti di debolezza, poi ha dovuto subire anche dei prelievi che non è stato facile effettuare, perché non sono riusciti a trovare l'avena e alla fine gli hanno ficcato un tubo nel braccio e hanno fatto addirittura l'ecografia dal braccio, insomma, è stata una brutta giornata. Però ce ne siamo andati tranquilli, non gli abbiamo portato tutto. L'ha notato. Pizza. Eh, sì, l'ha notato. E quello è così, e quello è così. Anche perché il troppo stroppia comunque e quindi adesso speriamo che possa riprendersi un po'. Bisognerà cercare di capire quella infezione che ha alla gamba, da che parte va, perché se dovesse andare dalla parte sbagliata è probabile che possa essere nuovamente operato e quindi speriamo, speriamo bene per le sorti di Giovanni e di quell'infezione che dovrebbe un po' contenersi, perché non possono togliere il drenaggio perché la gamba altrimenti non si sgonfia, ma se poi tolgono il drenaggio possono mettere la medicazione specifica per quella infezione, ma poi la gamba, insomma, Tino è un manicomio. Questo potrebbe un po' aumentare i giorni di degenza di Giovanni in ospedale, ma potrebbe darci la possibilità di capire al meglio invece poi il post degenza come potrà essere gestito. Noi tutti i mali vengono per nuocere questa volta. A noi vengono sempre per nuocere, anche questa volta, però non fa niente. No, questa volta non vengono. Non vengono per nuocere. Perché se sta ancora qua dentro magari… Ho capito, ma nuociono lo stesso perché poi si abbatte lo spirito, magari noi non riusciamo, vabbè, comunque sappiamo che dobbiamo vivere la giornata, noi poi siamo l'emblema assoluto di come si viva la giornata e quindi ci ritiriamo, ci ritiriamo, ci ritiriamo, ti sei guadagnato la pagnotta anche oggi, per ora e solo per ora… Ma anche per domani? No, domani alle otto e mezza a casa. Ecco bene. Per ora, e lo dico davanti a tutti, me l'hai tirata, per ora e solo per ora è quasi tutto, vi aggiorneremo. Un giorno non lascerò andare la gambina. Eh ma non arriva. Ti lo dico io che arriva. Ti dico io che arriva. Ti dico io che arriva. Ma guarda, Tino, se non ti vengo incontro, la gambina è tua, non arriva. Fammi andare, fammi andare, Tino, fammi andare. Ciao.